Io vorrei dirvi anche qualcosa vorrei fare una sorta di annuncio come fa l'unzione a agire sulla sematura Gesù Cristo è venuto e ha preso il 61esimo di Isaia e ha letto il primo verso e lo Spirito dell'Eterno è su di me perché Dio mi ha unto per andare a portare la notizia agli umili mi ha mandato a curare che ho un cuore rotto e prima è ovviamente contro il cuore e il secondo è per l'anima e sentite cosa c'è di interessante da raccontarvi io per un miracolo di Dio io per la sua direzione ho imparato a farlo quando tu preghi hai un bisogno e in un qualche momento arriva un pensiero prendere e dare dei soldi prendere e dare dei soldi ma è la cosa più importante è la cosa più importante la forza della sematura è l'istantaneo momento in cui noi ci sottomettiamo a Dio ho avuto una situazione interessante io stavo pregando in Crimea e io pregavo e vedevo che stavano costruendo un edificio un edificio per milionari era una persona povera io venivo a piedi facevo avanti e indietro per pregare c'era freddo e io per ore andavo avanti e indietro e per anni ho visto come costruivano questo edificio e io ho ricevuto la rivelazione della quarta dimensione di cui vi parlerò oggi e io mi sono immaginato in un posto molto concreto che lì dove c'era quell'edificio c'era il mio balcone c'erano i miei appartamenti e e guardavo il mare e la mia casa era proprio sulla spiaggia voi potete andare su internet e guardare Yalta Opera Prima è l'edificio più costoso più bello di Crimea e sentite cosa è successo passano gli anni e arriva il momento in cui da me arriva una persona e mi dice andiamo che ti faccio vedere un appartamento qui e mi fa vedere gli appartamenti e poi mi porta là dove mi porta là dove io con gli occhi guardavo dove io mi immaginavo di essere io con gli occhi guardavo me stesso in qualche modo ecco cosa la quarta dimensione è vedere non puoi decidere di pensare qualcosa o no ma 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 non cosa tu pensi sempre cosa è successo ma in quel momento io sapevo già come bisognava pensare quindi io ho visto là